Il nylon è acqua messo, cosa vi dicevo? Io vado via un momento per mettere a letto il bambino e lui mette del nylon dappertutto. Vi dicevo di quel sogno, del sogno non mi ricordo quasi niente, praticamente solo l'inizio e la fine. All'inizio questa voce bellissima che diceva, gli esseri umani sono perfetti perché sbagliano. E alla fine diceva, se hai fatto degli errori in questa vita, almeno hai fatto qualcosa. Ecco, poi se in questa casa ci fossi io a mettere un po' di ordine, non si sa, non servebbe finire. Perché io non faccio niente in questa casa qui? Sì, tu fai molto, tu fai moltissimo. Faccio quello che posso? Certo, vai bene. C'è chi fa anche quello che non può. Amore, io per te faccio anche qualcosa di te. Cosa fai? Tutto. Senti Franco, guarda, tu non avrai voglia di litigare con me, vero? Amore, io con te non posso litigare. Ecco dai, non litighiamo, è per piacere. Sai che non sono il tipo. No, perché se vuoi litigare, io ci sto. Perché vuoi litigare? No, te vuoi litigare? Io? Quando è il momento, però adesso... Ecco, adesso non è il momento. Perché sei così? Perché fai così? Così come? Così. Beh, perché te lo sto facendo di male? Ho fatto un video, ho fatto vedere le mie cazzate. In questo mondo qui siamo tutti quanti uguali. Ognuno di noi è il migliore. Allora, in un mondo di migliori, che senso avvantarsi? Allora io faccio delle mie cazzate. E le faccio finire come voglio. Come la fai finire? Come la fai finire? Non te lo dico. Mi si vede, Flavio? Sì. Sfocata? Sì. Senza il fuoco? Sì. Imbrogliata? Sì. E così? Sì, così si vede. Così mi si vede bene? Sì. Sono bella? Sì. Così mi si vede bene? Grazie a tutti.